Ciao a tutti da Domenico e benvenuti nella cucina di Antico Molino Rosso. Oggi, visto il periodo, vedremo come fare le frittelle di carnevale, quelle con mela e uvetta, e per farlo useremo una farina semi-integrale macinata a pietra, in questo caso l'aida dolci, che è anche raggiunta di amido di frumento all'interno. Per la nostra ricetta utilizzeremo 500 g di farina, 6 uova, 240 g di zucchero di canna, 300 g di uvetta messa in ammollo in acqua tiepida o, se preferite, metà acqua tiepida e metà binole cuoroso, 3 miele tagliate a cubetti, le scorze di 2 limoni, una bustina di lievito per dolci e 2 pizzichi di sale, mezzo cucchiaio ne possiamo dire. Ovviamente tutti gli ingredienti, come la nostra abitudine, da agricoltura biologica. Mescoliamo tutte le polveri, quindi la farina con il lievito e col sale, e ci riferiamo un attimo qua davanti. Ok. a questo punto, uova e zucchero con le nostre bucce di tibone e con una frustra andiamo a mescolare bene, facendo sciogliere il zucchero che non prendo le uova. Partiamo un po', dopodiché andremo ad aggiungere pian pianino la farina. Se preferite, con un setaccio o la setacciate prima e la vendete dopo con un pian pianino. andiamo a unire pian pianino la farina. Andiamo a unire pian pianino la farina. Andiamo a unire pian pianino la farina. Se riusciamo, facciamo un po' la frusta. Se dopo diventa un po' buono, e dopo unire il resto degli ingredienti, mettiamo direttamente la farina. dopo aver fatto assorbire bene la farina, possiamo iniziare ad aggiungere l'uva che è stata ben strizzata e scolata. Ancora qui, pian pianino, cercando di scolare bene tutto. e faremo la stessa cosa con le miele dopo aver mescolato bene tutto. Facciamo un pochettino per volta, perché le miele sono un po' più grosse. Dopo aver mescolato bene tutto, facciamo riposare una mezzoletta. ecco dopo aver fatto riposare il nostro impasto mezz'ora, lo facciamo friggere. Scaldiamo l'olio a 180 gradi circa, un olio di semi a rache di oggi, da sole non bene. Vi consiglio di prepararvi la postazione in questo modo. Un piatto dove scoliamo subito, e facciamo un attimo asciugare sulla carta assorbente le frittelle. Un altro con dello zucchero di canna, sempre biologico, dove girarle alla fine, perché rimangano ben intrinse. Una cosa importante della frittura è quella di regolare bene la fiamma. Da quando inseriamo le nuove frittelle la alziamo, nei periodi di pausa di frittura abbassiamo la fiamma, come ci ha consigliato la signora Carmen, che è una nostra affezionata, che ci ha aiutato nella stesura di questa ricetta. Questo è il livello di doratura che dobbiamo raggiungere. A questo punto abbassiamo la fiamma, e le tiriamo fuori sulla carta assorbente. In modo che l'olio mantenga sempre una buona temperatura, ma non si surriscaldi troppo, perché ci brucerebbe all'esterno la frittella, non cuocendola bene all'interno. Sempre con la fiamma bassa procediamo alla fornatura, che si fa come delle cnelli con due cucchiai. Dopo che inseriamo le prime due o tre, possiamo rialzare la fiamma. Non mettiamone troppo, soltanto la quantità che copra il diametro della pentola, perché devono poter galleggiare per friggere bene. Alzo un po' la fiamma a questo punto, e vado a riempire. Porteremo a completare la frittura, come avete visto nel passaggio precedente. Ecco le nostre frittelle dopo la cottura. Con mezzo chilo di farina, che è la quantità proposta nella ricetta, sono venute circa 70-75 frittelle. È una ricetta molto semplice, veloce, per avere un dolce molto genuino per i vostri bambini, e anche per gli adulti. Grazie e alla prossima videoricetta! A presto!